Il Consorzio dei Commercianti Shopping in Teramo Centro e la Comunità Scolastica del Convitto Nazionale Delfico hanno espresso la loro disapprovazione verso comune e provincia. In una nota congiunta hanno criticato l'incapacità delle amministrazioni locali di risolvere i problemi derivanti dal sequestro del Delfico, preannunciando una prossima manifestazione pubblica che vedrà la partecipazione di commercianti, residenti, la Comunità Scolastica del Delfico e altre forze attive di Teramo. Oltre al corteo verrà avviata anche una raccolta firme per chiedere un referendum cittadino come previsto dal regolamento dello Statuto del Comune di Teramo per costruire la scuola Giolli nell'ex stadio in circonvallazione Spalato. Perché noi pensiamo, ma non solo noi, anche la Comunità Scolastica del Liceo Classico che parteciperà alla raccolta di queste firme, noi innanzitutto pensiamo che portando fuori dal centro storico le scuole si creino veramente dei problemi per la città, ma non solo a livello economico e commerciale, anche a livello sociale e residenziale, in quanto attualmente molti genitori per portare i figli a scuola devono utilizzare l'auto. Le richieste sono chiare in caso di dissequestro e rientro immediato delle scuole nell'istituto fino all'inizio dei lavori di adeguamento sismico, ma anche la definizione e realizzazione di una scuola Giolli in centro disponibile dal 1 settembre 2025 per accogliere l'intera Comunità Scolastica del Delfico e non solo. La scuola Giolli e il ridosso d'Alessandro va in contraddizione con l'approvazione del PUT che prevede consumo del suolo zero, mentre il centro storico è pieno di strutture abbandonate da decenni che potrebbero essere utilizzate benissimo, ovviamente a consumo solo zero, affinché sia fatta una scuola Giolli che non crei problemi né alla cittadinanza né agli studenti, che comunque, cioè se io abito in centro, la scuola ovviamente lavorerà in centro. Il nostro obiettivo è di raccoglierne almeno 10.000, ma credo che sia veramente una cosa facile, nel senso che gli studenti sono tanti, i residenti anche, le famiglie anche, cioè qui c'è gente che comunque in questo momento ha grosse difficoltà.